Salve a tutti ragazzi, io sono RobiDimer29 e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete visto nel titolo, oggi andiamo a distruggere le bottiglie. La distruggere con questa mazza naturale, possiamo dire. Comunque iniziamo con la bottiglia. Comunque sono riempite d'acqua. Tutte. Iniziamo. Non è successo niente. E' stravolata. O forse no? No, no, mi sto raccomando. E' l'altro fallimento che ho fatto prima. E volevi... Forse un po' di là non l'ho fatto so. Eccola lì. Credo proprio di sì, eh. La prima bottiglia è andata. Se la bottiglia non si romperà, allora andremo con le cose più forti. Esatto, avete proprio capito. Ok, continuiamo. Guardate, ragazzi. Guardate, ragazzi. Eh, madonna. Non si mette. Scusate un attimo. E eccomi, ragazzi. Seconda bottiglia. Non puoi imparare di più o meno. Ok, ragazzi. No. Se la bottiglia si rompe in cinque battute, passeranno le cose più forti. Ok, una battuta è andata. Seconda è andata, non si è andata niente. Seconda. Oh no, invece no, si è fatto qualcosa. Esce da sotto. Ok, seconda. Ah, ha preso il legno. Guardate, è andata niente. Ah, è andata niente. Guardate, è andata niente. Se la fa la finta, allora la facciamo alle cose forti. Ok, ragazzi. Ho fatto un bocchino e allora la facciamo alle cose forti. Voilà. Ho fatto un bocco qui al centro. Ancora si distrutta. Secondo. Non è andata niente, ragazzi. Come fa a resistere? Terzo. Ok, ok. Ok, ok. Ho fatto un po' più, un po' più bravo. Terzo, quarto, ora? Quarto. Ok, adesso. Dove è andata niente. Ancora più forte. Andiamo con me. dobbiamo farlo anche Natale dove stai? dove cazzo stai? no ragazzi, non trovo più una cosa arco di schien dove c'è questo? ecco, non la trovo più non la trovo più che cosa? e continuo a svizzera sto fuori? sì, ecco, sto fuori il mio svizzero personalizzato ok torniamo su raga e continuiamo e let's go se si era 10 ok e iniziamo e iniziamo e iniziamo e iniziamo la prima e la seconda è andata ci mancano altri tre chi fia va è un battuta beh oddio c'è il collo secondo si è aperta vabbè si è aperta vabbè si è aperta secondo no terzo niente questo niente quarto e si è aperta solo ma non ho fatto niente quinta e ultima niente passiamo alle cose più forti allora uno due ecco che si è bucata tre quattro oh cinque ok sanguina per riaprirla l'ho aperta ok oggi ne mancano solo due e abbiamo finito la stessa bottiglietta prima mazzata prima mazzata mi so che mi so che mi so che è andata addosso ai fiori e non è che è una cosa molto buona però i fiori non si sono fatti niente tranquilli non si sono fatti niente neanche secondo vediamo il scherzo come si comporta oh oddio quarto quarto credo che è andata è scoppiata in faccia l'ultima bottiglia oddio non riesco a più di faccia odore odore di che fio ok ragazzi iniziamo con l'ultimo bottiglia primo tiro niente secondo tiro secondo tiro ok adesso tiro si è fatto qualcosa questa volta ecco non si mette a posto raga aspettate aspettate quarto quarto si sboccia raga e l'ultimo quinto ora abbiamo qualcosa più pesante ovvero il coltello uno niente due tre quattro cinque non si sono fatti niente ma ora visto che sono cattivo addio addio da 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 sboccia raga speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao raga ciao ciao